Si discuterà dei provvedimenti legati agli ecobonus per case e auto con un super sconto per veicoli elettrici nella prossima puntata di Spazio Impresa in onda su Sudtv canale SS3 domani giovedì alle ore 21.10. Il format settimanale che si occupa di economia condotto da Alessandro Mazzaro informerà gli utenti dell'importante argomento con gli ospiti Piero Vivone, presidente nazionale Fedapi, ed Antonio Procida, responsabile centro-studio Fedapi. Nelle prossime puntate con vari ospiti verranno affrontati i temi più caldi riguardanti il commercio, imprese e tassazioni.